come va ragazzi il mio nome è mirko thunder e oggi entriamo a giocare alla versione 1.0 di hound the real slender game benissimo livello difficoltà gamer che cosa faresti se ti svegliassi in un posto sconosciuto a meno così quanto sia tradotto beh non lo so calpesterei l'erba le piantagioni prenderei a caccia e bastonate gli alberi insomma mi spogherei ok ok e ci troviamo di fronte a questo gano qui sono cose diverse da la versione qui dobbiamo raccogliere factories e poi e ora spuggo in corso slendy 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 ma cosa ci combini cosa ci combini slendito dovrei seguire il compito eh non è positiva la cosa quindi vuol dire che slender è molto vicino c'è oddio 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 c'è 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 oh ragazzi Sì that's not possible eh oh mamma mia wondered great sigue c'è c'è non ho neanche presa una pagina una nota è subito slendita lontano tutto luminescente che ci rincorre che sembrava il gomma piuma qui pupazzi anni ottanta Cioè proprio non si muoveva, corriva E io non potevo più muovermi Quando lui stava venendo verso di me Il problema è questo Ma ragazzi mi dispiace per l'episodio cortissimo Di Haunt Ma ragazzi che vi pensate voi? Ce ne saranno altri Molti altri Bene ragazzi Da Dom è tutto per oggi Iscriviti anche tu Se non l'hai fatto Perché Se no Slendy ti viene a stuprare Scherzo ragazzi Iscrivetevi Mettete mi piace, commentate, condividete Fate quello che volete Unitevi Amatevi Vogliamoci tanto bene Basta Così Ciao a tutti